Un anno e sei mesi, questa la pena batteggiata dal 34enne accusato di omicidio stradale per la morte di Enrico Chini nel tragico incidente del 31 luglio 2020. Al volante di una Ford Focus, lungo la statale 73 nei prezzi di San Marco, l'uomo effettuò una manovra di svolta nel tratto a doppia striscia continua ed invase così la corsia di marcia nella quale sopraggiungeva la giovane vittima. Il 33enne, sposato e padre di una figlia, in sella alla Ducati, non poteva evitare l'impatto e morì. La sentenza del Tribunale di Arezzo è arrivata dopo una battaglia di perizie che per l'investitore ha escluso l'aggravante legata alla presenza di sostanze stupefacenti nel sangue. Gli accertamenti fecero emergere la presenza di benzo diazepine nel sangue dell'automobilista, ma la perizia risposta dal giudice Giulia Soldini non ha consentito di affermare con certezza che fossero conseguenza dell'assunzione di droga che avrebbe fatto scattare l'aggravante con la pena più alta. Quelle tracce, infatti, potrebbero essere riconducibili ai farmaci somministrati al pronto soccorso dove fu trasportato dopo l'incidente. Tanta adesso l'amarezza dei familiari di Enrico Ochini. Nessun segno di pentimento, scrive la sorella Simona sulla sua pagina Facebook, da chi quella sera ha deciso di eseguire una manovra in una strada costriscia continua. È stato come rivivere la tragedia una seconda volta? La vita di un ragazzo di 33 anni non può valere un anno e mezzo di pena.